Come ti chiami? Urbano, di nome Roberto di cognome. Quindi? Urbano Roberto. Quanti anni hai? 36. Dove vivi? In Pagoveano, Benevento. Che cosa hai mangiato a colazione? Un caffè. Che cosa vedi fuori dalla tua finestra? La campagna. Mi mostri il tuo miglior sorriso? Biologico, integrato o tradizionale? Integrato. Hai animali? No. Mare, campagna o montagna? Dove vai in vacanza? Mare, campagna e montagna.